Un biglietto per chiedere scusa alla moglie e alla figlia di 11 anni. L'avrebbe lasciato l'uomo di 49 anni, friulano, che la scorsa notte si è tolto la vita nello stabilimento in cui lavorava, il centro stampa di Savogna, alle porte di Gorizia, in cui si trovano le rotative che stampano il piccolo e il messaggero Veneto. A scoprire il tragico gesto, l'uomo si è impiccato in un ufficio, sono stati colleghi poco dopo le tre di notte. Sul posto i carabinieri che hanno escluso il coinvolgimento di altre persone. La produzione è stata subito fermata. Nei giorni scorsi l'azienda aveva annunciato la chiusura del centro stampa di Gorizia con il trasferimento dell'attività e del personale nel centro stampa di proprietà del gruppo a Padova. Il gruppo J di News Network si è dichiarato profondamente colpito e addolorato. E domani piccolo e messaggero non saranno in edicola. L'assemblea dei redattori, così come le sigle di categoria dei poligrafici GL e Cisle Will, hanno proclamato uno sciopero di 24 ore. In particolare i giornalisti delle due testate incrociano le braccia in segno di lutto e di solidarietà ai colleghi e alla famiglia del tecnico del centro stampa di Gorizia, che è riportato in un comunicato sindacale a regime da circa sei anni dopo la dismissione delle rotative di Trieste e Udine e il loro conseguente accorpamento nell'Isontino finirà di essere operativo il prossimo mese.